Amici dell'Osteria Scevnaz, buongiorno! Immaginate cosa sto mangiando! Pensate! Ragazzi, la nostra cicala greca che è il meglio del nostro mare la nostra cicala greca Ragazzi, io vi aspetto qui all'Osteria Scevnaz per farvi mangiare lo spettacolo del nostro mare una freschezza umida, una bontà micidiale il mare nel nostro piatto vi aspetto, venite tutti all'Osteria Scevnaz un grande abbraccio all'Osteria Scevnaz e un saluto dall'Osteria Ciccio Ciao amici!